Una serie di concerti, mostre e spettacoli teatrali per una proposta culturale ampia. E' questo il nucleo del Festival della Piana del Cavaliere che inizierà il prossimo 9 luglio. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione e patrocinata dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, è stata presentata a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. Il primo Festival della Piana del Cavaliere, organizzato e proposto dall'imprenditore locale che c'entra poco con la cultura, dimostra quanto sia importante che la regione sia vicino a questo evento che si manifesta come la seconda anomalità. Il programma è notevole per quanto riguarda questi 15 giorni, ma soprattutto io penso che debba stare vicino la regione a questi imprenditori che propone il secondo Festival della Piana del Cavaliere soltanto per l'educazione, la proposizione, il lavoro che fa sui giovani, sulla masterclass che presenta, che i giovani hanno la possibilità gratuitamente di poter crescere il loro curriculum culturale, musicale. Quindi penso sia importante. L'importante è anche perché dal primo anno che ha manifestato questo Festival, l'Uddenz è stata numerosa e favorevole. La parte che penso debba interessare la regione è costituire questo distretto culturale della Piana del Cavaliere in modo che dare un po' di respiro e rilancio di questa zona che è ai margini con la regione Lazio. La rassegna multidisciplinare della durata di due settimane è stata selezionata per l'anno europeo del patrimonio culturale e si è resa possibile grazie all'impegno dell'azienda Aisico SRL guidata da Stefano Calamani, presidente del Festival e convinto sostenitore del settore culturale. In particolare la cultura, secondo noi, è un elemento fondamentale perché viviamo in un paese dove la cultura è nata, dove la cultura crea, contrariamente a quello che si possa pensare, posti di lavoro, crei economia con uno sviluppo turistico impressionante. In una zona invece come la Piana del Cavaliere dove effettivamente, pur essendoci dei segnali abbastanza evidenti di culture pregresse, di posti molto belli, dove però la cultura non è strumentale per l'economia. Poco turismo, poche capacità ricettive, eccetera. Quindi volendo fare delle attività sociali sul territorio per sviluppare il territorio abbiamo ritenuto che la cultura fosse il cavallo sul quale dovevamo necessariamente puntare. La direzione artistica è stata invece affidata ad Anna Leonardi che ha individuato il filo conduttore del Festival nel profondo legame tra l'arte e l'uomo. Diciamo che in tutta questa seconda edizione del Festival ragioneremo e indagheremo appunto sul rapporto tra l'arte e l'uomo, tra l'arte e la vita dell'uomo e la unione o distinzione appunto tra queste due entità. Lo faremo con dei punti salienti del programma che sono innanzitutto le masterclass perché gli allevi che parteciperanno alle masterclass seguiti dai loro docenti saranno tenuti ad esibirsi in molti concerti. La Regione Abruzzo supporta convintamente l'importante iniziativa culturale grazie anche all'interessamento dell'assessore Lorenzo Berardinetti e del consigliere delegato Maurizio Di Nicola.